La donna in posizione del centro-destra a sossegno di Tesei guadagna il 62% Io introduco la persona importante che è Donatella con gioia, con commozione, con felicità Fido chiunque a pensare settimana scorsa, un mese fa, sei mesi fa che si sarebbe celebrato una festa come quella di oggi, una festa di democrazia e la conferma che la Lega è di gran lunga il primo partito di questo paese Nota a margine un presidente del Consiglio che dice che il voto degli Umbri conta poco e niente così come conta poco e niente il voto dei Leccesi e poi ci rividiamo in Puglia è un omino Naturalmente io voglio ringraziare gli Umbri perché hanno dato una prova di grandissima maturità e di grandissimo coraggio Non era per niente facile, non era scontato però girare in ogni luogo della nostra regione mi ha dato ogni giorno di più quella forza, quel coraggio e quella determinazione perché vedevo proprio negli Umbri la voglia, che non è una voglia, era una necessità di cambiamento Grazie a voi! Grazie a voi! Grazie a voi! Grazie a voi! Grazie a voi!